buonasera ragazzi qui è mister lob dal minerva studio e stasera parliamo di voce in particolar modo stasera vi faccio vedere come eliminare le risonanze sulla voce questo è uno dei passaggi che si fa sempre sulle voci perché comunque in ogni voce c'è sempre qualche problemino di risonanza da andare ad eliminare però stasera non ve lo faccio vedere in maniera classica cioè non prendo il classico equalizzatore prendiamo la la frequenza di risonanza che non ci piace e la eliminiamo ma lo facciamo con un altro tool molto più interessante che il compressore multibanda il perché ve lo spiego dopo mentre lo faccio innanzitutto andiamo ad ascoltare questa voce ehi non c'è male parlo poco cerco le parole con un sudoku ogni giorno sfido goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu ok facciamo un'equalizzazione veloce giusto per avere una voce un po più pulita per lavorarci il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cos'è uno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato sì è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare ehi quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto questi mi chiedono se tutto a posto ehi non c'è male parlo poco ok giusto un tocco così per dare un po più di chiarezza alla voce ovviamente non è l'argomento l'equalizzazione della voce non è l'argomento di questo video per cui tutto il resto ragazzi lo lasciamo andare perché non ci interessa bene ora cosa molto interessante quando io faccio il trattamento delle risonanze questa è una cosa molto interessante allora c'è chi dice di farlo all'inizio c'è chi dice di farlo nel mentre invece vi dico fatelo alla fine questo perché perché man mano che si costruisce il si costruisce la voce quindi si fanno equalizzazioni compressori riverberi e tutto il resto naturalmente specialmente con i processori di dinamica quindi con i compressori cosa succede che man mano che lo andiamo a comprimere andiamo a tirar fuori sempre dei dettagli molto interessante dei dettagli che senza la compressione noi non riusciamo a sentire dettagli ergo frequenze ok quindi magari che succede che se noi lo facciamo prima di iniziare a comprimere noi troviamo la frequenza di risonanza che non ci piace diciamo ok questa qui non mi piace togliamo 6db poi succede che cominciamo a comprimere cominciamo a fare tutta la strutturazione nella fase di compressione della voce e naturalmente vengono enfatizzate anche determinate frequenze specialmente quelle di risonanza che a noi danno fastidio e quindi magari i 6db che abbiamo dato all'inizio non sono più sufficienti per togliere quella frequenza di risonanza il problema sapete quali ragazzi che le frequenze di risonanza a volte neanche quando c'è tutto il mix aperto neanche si sentono specialmente se noi l'abbiamo già pretrattate prima non abbiamo tolto i 6db e dice vabbè siamo a posto il problema è che poi quei 6db non sono più sufficienti se noi andiamo a fare tutta la strutturazione del game staging della voce quindi dovremmo andare indietro a togliere un altro poco però nelle situazioni pratiche molte volte ci sono dimentica quindi io le faccio alla fine perché è un processo che serve per andare a rifinire la voce ok ora vi faccio un esempio giusto per capirci prendiamo un compressore quello che dovrebbe essere l'idea di come si lavora poi ovviamente non è che sulla voce si mette ci può essere fatto qualsiasi cosa però giusto un esempio per capirci allora lo facciamo con con l'art box dove l'art box l'art box eccolo qua cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cosa è meglio se alzarmi adesso non so fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ok quindi ideologicamente abbiamo equalizzato poi abbiamo compresso e la fase di compressione ragazzi dipende da quello che vi serve io qui ci ho messo un compressore giusto come esempio per identificare la fase di compressione però la fase di compressione sulla voce potrebbe anche essere un compressore multibanda due compressori tre compressori dipende da quello che dovete fare però come ideologia dobbiamo fare questa situazione delle risonanze alla fine in maniera tale che poi noi andiamo a fare proprio il lifting finale ok per cui ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato sì è ufficio abbiamo compresso potremmo anche mettere un da essere perché c'è la voce che diciamo da essere che danno un po fastidio e lo facciamo proprio giusto così ciao le chiedilo a tutti per cominci non sono del posto questi mi chiedono se tutto a perfetto ok ideologicamente siamo arrivati alla fine della nostra catena vocale perfetta la voce è perfetta controllata dinamicamente abbiamo controllato le s l'abbiamo equalizzata riverbero eccetera tutto a posto ora sul finale andiamo a togliere le risonanze che danno fastidio first of all come vi dicevo prima non lo facciamo con l'equalizzatore perché ora vi spiego perché però facciamolo prima e prendiamo un bel compressore qua bypassiamo tutte le bande ok tranne questa e questa perché perché queste due bande qua ci danno la possibilità di selezionare il q e quindi di stringere la campanatura posto ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle nostre sveglio non so cosa è meglio se alzarmi adesso fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le assugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare una l'abbiamo trovata allora naturalmente vabbè le frequenze risonanti sono quelle che fanno l'effetto ring l'effetto anello si sente proprio se voi ascoltate questa lezione specialmente con le cuffie ve ne rendete conto che è come se tornasse se ci fosse se ci fosse come se ci fosse un loop e si sente proprio ascoltate quanti siamo non vi conosco scusi signora non so ok che ritorna quindi l'abbiamo trovata cosa facciamo torniamo il gen a zero boom lippiamo sono del posto questi mi chiedono se tutto a posto ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido goku leggo l'aria leggo dopo perfetto un album ho trovato che è intorno ai 469 trucchetto che vi do quando ne trovate una andate a controllare le armoniche di questa cioè cosa vuol dire basta prendere la frequenza fondamentale in questo caso 469 hertz e moltiplicarla per dei fattori interi in questo caso moltiplichiamola per due 469 diciamo quasi mille andiamo vediamo sui mille se effettivamente è così non so questo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cos'è meglio se alzarmi adesso fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato si è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto questi mi chiedono se tutto a posto ehi non c'è male parlo poco vedete qua cioè qua c'è proprio evidentissimo e siamo intorno ai mille più o meno quel range là andatevi a controllare ci siamo quindi 0 range giù scendiamo cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cos'è meglio se alzarmi adesso fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ehi ehi ok uno e due andiamo a rifare lo stesso controllo bypassiamo 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 ora vi spiego il perché bypassiamo lo facciamo con il compressore e non con l'equalizzatore perché ogni cosa io vi spiego sempre il perché non è che la lasciamo così ricampate in aria come se non ci fossero domani partiamo da qua quindi la zona di 500 e 1000 abbiamo sistemato prima non c'era niente perché abbiamo ascoltato dobbiamo andare a vedere un po' la zona alta 60 ok tiriamo su vediamo un po' ehi lo so fare posso stare sono tornato si è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare ehi quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto questi mi chiedono se tutto a posto ok ok 0 via ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido Goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cosa è meglio se alzarmi adesso fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss hai davanti Hugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza Google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato si è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare ehi quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto questi mi chiedono se tutto a posto ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido Goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio io non so cos'è meglio se alzarmi adesso fissare il muro siamo a posto ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti Hugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza Google ehi ehi lo so fare intorno ai 5000 c'è l'altro che sarebbe l'armonica qua siamo 2000 ehi quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto 7500 500 ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido Goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno delle notti sveglio non so cos'è meglio se alzarmi adesso fissare il muro quando ho perso non c'era nessuno ora vinco solo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti Hugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza Google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato si è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare ehi quanti siamo non vi conosco scusi signora non sono del posto questi mi chiedono se è tutto a posto ehi non c'è male parlo poco cerco le parole come un sudoku ogni giorno sfido Goku leggo l'aria leggo dopo orientale come il tofu il mio presente sembra il mio futuro mi ricorda sempre dei giorni a digiuno ora perché lo abbiamo fatto con il compressore scusate e non con l'equalizzatore si capisce benissimo da questa sezione guardate se voi ci fate caso il compressore qui interviene solo quando questa frequenza di risonanza ha superato una certa soglia una threshold che è la threshold che noi abbiamo settato secondo la quale a noi dà fastidio quella frequenza di risonanza seguitemi bene quindi in alcune parti della riproduzione musicale essendo il compressore uno strumento dinamico che segue l'andamento musicale non interviene perché lì non ce n'è bisogno e quindi la voce non dà fastidio la risonanza non dà fastidio se invece avessi utilizzato un equalizzatore fisso questo sarebbe stato fisso appunto quindi sarebbe intervenuto anche quando non ce n'era bisogno e siccome specialmente nel nostro genere nel genere trap ragazzi tutte le produzioni sono abbastanza movimentate noi dobbiamo fare di tutto per rendere il più naturale possibile l'esecuzione e per seguire l'andamento della voce non per niente io ho scelto questa questa voce qua perché è una voce abbastanza ritmica abbastanza cantata si scusate rappata quindi vi ho fatto vedere proprio come il compressore multibanda segue l'andamento della voce ma si vede benissimo da qua guardate qua come questo specialmente è il problema anche qui sulle alte attenzione perché se noi prendiamo anche un un equalizzatore fisso per tagliare le risonanze può essere che andiamo a togliere un po' di brillantezza sulle alte invece con il compressore multibanda si autoregola guardate questo quando interviene e anche questo per qualcuno bad vibe sai che le asciugo non fare il boss sei davanti ugo non sai cucinare parli di sugo lo so fare pure senza google ehi ehi lo so fare posso stare sono tornato si è ufficiale chiedilo a tutti per cominciare ehi quanti siamo non vi conosco scusi cioè balla proprio con la con la voce noi vogliamo ballare ok noi non vogliamo le cose fisse dobbiamo essere molto sciolti e immobili quindi ricapitolando il tutto della lezione di stasera trovare le frequenze che danno fastidio che ci annoiano quando lo si fa lo si fa alla fine perché perché dopo che noi abbiamo fatto tutto il processo sulla voce il processo vuol dire equalizzazione compressione saturazione riverberi effetti tutto ciò chi più ne ha più ne metta una volta che abbiamo costruito tutto il suono quindi abbiamo anche una contezza più vera di quello che è il sound interveniamo con un lifting finale che è il togliere le frequenze di risonanza che ci danno fastidio come lo facciamo lo facciamo con i compressori multibanda non con gli equalizzatori fissi questo ragazzi è un trucco si può fare anche con gli equalizzatori dinamici si però con il compressore multibanda è più è un tool più versatile perché supponiamo che noi ci rendiamo caso che oltre a fare questo dobbiamo anche intervenire un po' sul mid range con la compressione ok e possiamo farlo già da qui da un unico tool senza andare ad aprirle un altro quindi non usate gli equalizzatori fissi perché ormai per fare queste cose qui sono un po' datati ma specialmente nel nostro genere ragazzi che è un genere molto movimentato noi dobbiamo fare di tutto per seguire sempre step by step ciò che il programma musicale richiede bene anche per stasera ragazzi è tutto come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina così vi arrivano le notifiche con tutti i video gli approfondimenti e le novità del Minerva Studio seguitemi anche su facebook e su instagram dove la insomma un po' social sono le post le cose molto interessante e poi è uscito il video corso mixtra per minerviani vi lascio il link in descrizione andatevelo a vedere e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti